Buongiorno a tutti, con questo video tutorial vogliamo far vedere come si compila una domanda di utilizzazione per docente individuato sopra il numerario nella scuola di precedente titolarità. Allora, andando su Instanze Online, una volta entrati proprio nella presentazione della domanda di mobilità inorganico di fatto del personale docente, andiamo a selezionare il grado di istruzione della domanda, nel tal caso scegliamo il secondo grado. Dopodiché vedete che c'è l'utilizzazione provinciale, si deve inserire questa domanda in utilizzazione provinciale per richiedere così il rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità. Facendo Inserisci si entra proprio nella sezione per compilare la domanda di utilizzazione provinciale. Allora, la sezione C è obbligatoria perché bisogna inserire di fatto il punteggio. Come si fa a inserire il punteggio di utilizzazione? Si va a prendere il punteggio che si ha nella gradatoria interna di istituto e lo si aggiorna con il punteggio dell'anno in corso. Facciamo un esempio. Immaginiamo che nella gradatoria interna di istituto ci siano 150 punti. Con l'anno in corso abbiamo 156 punti più 2 di continuità, 158. Si consiglia di controllare attentamente che il punteggio della gradatoria interna di istituto sia stato redatto correttamente. Dopodiché si procede andando a questa sezione si può considerare riempita si va a vedere la sezione E utilizzazioni con precedenza e vedete che al numero 19 c'è l'utilizzazione per rientrare nella scuola di precedente titolarità nel caso in cui il docente esprima anche altre preferenze nella sezione preferenze verrà trattate queste altre preferenze in subordine. Allora si va a scegliere la scuola. Per esempio si sceglie la scuola, nel mio caso io ho la mia scuola Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria per cui scorro fino a trovare la mia scuola e per poterla poi inserire a sistema come è proprio, eccola qui, l'igio scientifico di Leonardo Da Vinci, la seleziono e sono così prioritariamente inserito a rientrare in questa scuola. la tipologia di posto di precedente titolarità bisogna sempre metterla nel mio posto comune ma se fosse stato un posto sostegno avrei avuto la possibilità di scegliere, di optare in questo caso è un posto comune e si può chiedere come estremarazzo di essere, rimanere a disposizione nella scuola di titolarità. Si consiglia di mettere sì. il numero 20 è la conferma nella scuola in cui si è stati utilizzati nell'anno precedente ma nella fattispecie di come una domanda dove si applica questo tipo di precedenza possiamo dire che con questa sezione abbiamo terminato. le altre indicazioni che vanno inserite è che tipo di cattedra si vuole se si vuole una cattedra per esempio articolata si può optare, chi vuole per esempio essere utilizzato solo su cattedra interna non deve optare né per la cattedra spezzata una COE sullo stesso comune né tantomeno su COE su comuni diversi può lasciare nessuna selezione, dichiarare se sia in part time oppure il docente chiede utilizzazione anche su posti di unità inferiore all'anno cioè ci sono delle indicazioni che il docente può esprimere e poi importantissima obbligatoria è la sezione H dove si deve dire il tipo di posto per cui si concorre nella fattispecie è un posto normale poi abbiamo la sezione M se vogliamo inserire altre classi di concorso per cui si vuole essere, diciamo così partecipare a questa utilizzazione nel caso mio non ho altre classi di concorso non voglio essere utilizzato in altre classi di concorso e a questo punto chiaramente posso fare il salva e così comparirà che l'operazione è stata effettuata con successo al livello di preferenze posso andare chiaramente a scegliere le preferenze per inserirle al sistema la prima preferenza che va inserita è proprio quella della scuola richiesta principale e dunque bisogna andare a ricercare la scuola per cui si chiede il rientro e inserirla come prima a scuola dopodiché si possono aggiungere anche successive scuole per esempio si può aggiungere quest'altra scuola oppure quest'altra ancora oppure quest'altra ancora o quest'altra ancora ecco si può fare un elenco di scuole ma anche se si vuole l'intero comune tanto per dire si può così indicare le preferenze per l'utilizzazione non dimenticatevi chiaramente di inserire anche gli allegati nella fattispecie dopo aver fatto chiaramente salva per quanto riguarda le preferenze e di aver effettuato con successo l'operazione si passa agli allegati negli allegati che sono stati già preparati precedentemente inseriti nella sezione gestione allegati per l'utilizzazione bisogna inserire l'allegato D dell'anzianità del servizio l'allegato F della continuità del servizio non dimenticatevi proprio per chi è sopra il numerario indicato come sovrannumerario di indicare nell'allegato F anche la precedenza del rientro nella scuola di precedente titolarità le esigenze di famiglia va inserita come dichiarazione i titoli culturali vanno inseriti come autodichiarazione sotto la propria responsabilità cioè tutto ciò che è riferibile al punteggio a quei 158 punti che abbiamo indicato in domanda va, diciamo così, documentato e allegato speriamo che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento seguiteci ancora nei nostri canali social YouTube e Facebook e nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it un saluto a tutti quanti grazie a tutti